Con la calata del quadro della Vergine Maria di Capocolonna inizia il mese dedicato alla nostra regina e madre, un momento di grande emozione che viene trasmessa da generazione in generazione, che rafforza la nostra identità mariana. Purtroppo anche quest'anno la calata della Sacra Effigie di Maria è stata fatta a porte chiuse, un giorno quello del 30 aprile, tanto atteso da tutto il popolo crotonese, ma il rispetto delle regole è fondamentale per cui, per non perdere questo primo appuntamento mariano, usiamo immagini di repertorio, che sicuramente emozioneranno i nostri cuori, perché la nostra storia è fondamentalmente legata a questo mese dedicato a lei, la Vergine Maria. La Madre di Gesù è il nostro punto di riferimento dopo il Figlio, e come vuole la nostra tradizione, nel momento di bisogno, di sofferenza, di dolore, ci rivolgiamo a lei che ci accoglie tra le sue braccia, ci allatta con il suo latte misericordioso e porta pace nei nostri cuori. Maria di Capocolonna, Maria la Vergine Negra ma bella, Maria la Patrona della nostra Diocesi, una immagine cara a tutti che ha segnato nel tempo la nostra devozione sempre crescente. In questo mese di Maria la crotonesità diventa un percorso di speranza, di totale riconoscimento della nostra fede in colei che con il suo sì ha accolto la volontà di Dio e ha aperto le porte della misericordia all'umanità. L'effigie della Madonna sarà esposta nella navata centrale della Basilica Cattedrale e potremo incontrare il suo tenero sguardo che coinvolge tutti e ci fa accettare la mancata partecipazione alla calata del quadro, sapendo che Maria è sempre nei nostri cuori, ci parla anche a distanza e ci invita all'obbedienza e il nostro sì in questo momento è un atto di fede per lei e di offerta. La Madonna, in questo periodo particolare, ci invita alla preghiera, lei madre del popolo crotorense, regina dei nostri cuori, è sempre con noi. Quante grazie abbiamo ricevuto attraverso la sua intercessione, quante ne riceveremo anche in questo momento da colei chi ama il suo popolo, conosce i nostri bisogni spirituali e ci accoglie benevolmente nel suo cuore. L'incontro con la nostra regina in questo momento è il percorso più importante. Ai giovani dobbiamo raccontare la storia della Vergine Negra ma bella, il passaggio di testimoni in questo periodo tra generazioni è segnato da ricordi indelebili, ma anche di preghiera e di fede. Evviva Maria, evviva la nostra regina di Capocolonna, madre di Dio e madre nostra, abbi cura dei tuoi figli, del tuo popolo, che con grande devozione si affida alla tua maternità e alla tua grazia. Nonostante tutto, continua il suo cammino con te, il percorso di fede alla tua sequela per incontrare il Cristo risorto. Grazie a tutti.